E allora la curva del tabaccaio, una curva fortunata signora? Ecco, c'è una vincita, di che cosa si tratta? 10.000 euro in un gratinamento E' la prima volta che si vince in questo pubblico esercizio? 6 volte La prima volta? No, la prima volta, 6 volte E allora la curva fortunata? Sì, bastardo fortunata Ed il vincitore chi è? Il signor Piazza E' così presente ai visitatori di Castello Incantato Ecco, come ha fatto a giocare e ha fatto, diciamo così, ha sperato di vincere in questo mese di giugno? Ci credevo, bisogna tentare la fortuna a volte Mi è riuscito Tutto a posto 10.000 euro spero di fare una bella vacanza 10.000 euro per una vacanza? No, per una vacanza Sono tanti per una vacanza 10.000 euro Si ricorderà degli amici? Con 10.000 euro, diciamo, se erano di più sì, se erano 500.000, 100.000, potevo pensare a qualche bisognoso Ma 10.000 euro oggi come oggi ne che sono... è una cifra modesta, ma diciamo... Ci speravo comunque Ci speravo, sì, sì, ci speravo E' un po' di tempo che vado appresso Ecco, dopo tanto tempo, finalmente... Finalmente abboccato 10.000 euro 10.000 euro 10.000 euro Alla curva del tabaccaio Sì, sì Auguri Grazie, grazie che ci hanno incantato Grazie 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 Grazie